Tutti i provvedimenti in materia bancaria, sia i decreti che i provvedimenti di legge di stabilità, sono provvedimenti funzionali alle banche, a far guadagnare le banche, a tutelare quegli amministratori responsabili a scapito di tutti i risparmiatori di correntisti. Allora la Lega ha presentato tre emendamenti di legge di stabilità dove noi chiediamo che le commissioni per gli utenti, per i clienti vengano zerate. Non vogliamo commissioni sui post, sui pagamenti col Bancomat, non vogliamo gli abbonamenti ai post, non vogliamo che i bonifici costino, non vogliamo che non banking costi per i clienti perché questo è già un vantaggio per le banche che hanno un incasso diretto dai pagamenti attraverso l'uso della moneta elettronica per cui noi crediamo che questo favoritismo nei confronti delle banche debba assolutamente finire. A tutela dei commercianti, dei piccoli imprenditori e soprattutto dei clienti, noi chiediamo al governo e dalla maggioranza di votare i nostri emendamenti perché finalmente possa finire questo continuo favoritismo nei confronti dei grandi istituti di credito e di quegli amministratori irresponsabili che hanno rubato soldi o hanno dato soldi e credito a persone, ad amici che non ne avevano diritto questo a scapito di tutti i risparmiatori che oggi purtroppo sono alla fame.